Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in questo canile, va bene iscrivetevi a questo canile, seguitemi sui social, scaricate l'app di OneFootball che vi dà info, notizie in tempo reale, aggiornamenti, ve la lascio in descrizione e quest'oggi voglio parlare con voi un po' di Roma e Juventus. Stasera col Bepi ore 21, Arena dei Butei per tutte le categorie di abbonati avanzato, medio e base in cui ci sfoghiamo sul calciomercato del Verona e tra i motivi dello sfogo c'è anche questa cessione di Cumbulla che va ad aggiungersi a quelle di Amrabat e Ramani, insomma i tre tenori del Verona con la Roma che si porta a casa un signor acquisto, un signor acquisto perché stavo pensando alla difesa che la Roma potrebbe avere se venisse ripreso anche Smalling e stiamo parlando di una difesa per me sulla carta assolutamente da Champions perché se aggiungiamo Mancini, Ibanez, ci mettiamo magari uno Smalling, ci mettiamo Cumbulla, poi c'è un Fazio, va bene ma lasciamo stare, la difesa titolare della Roma rischia di essere, ripeto se dovesse arrivare anche Smalling sicuramente tra le prime quattro del campionato come difesa sulla carta. Questa cosa qui è interessante perché in queste stesse ore sta andando in scena pure la probabile eccessione di un Der a Leister per circa 25-27 milioni mi sembra di aver letto. Allora vi faccio notare che l'operato di Fienga che si sta dimostrando uno dei DS sicuramente più svelti diciamo più abili anche per certi versi di queste settimane di mercato in pochi giorni ha portato dalla cessione di Shik alla cessione potenziale fatta in queste ore di Cengizun Der senza stare a parlare tanto di esuberi. Vi faccio notare che spesso in queste settimane siamo esposti alla narrazione anche vera per certe cose però spesso sentiamo dire è un mercato difficile, gli esuberi non te li compra nessuno, ma non ci sono offerte. Esiste una cosa che si chiama anche fantasia, esiste una cosa che si chiama proattività e permettetemi di dire Shik non era un esubero della Roma? Era un profilo facile da vendere secondo voi dopo le ultime stagioni? Non proprio, non proprio. Invece è stato venduto anche a una cifra molto buona. Anche un Der per certi versi e non crediate che sia così semplice da vendere perché non è che venga da un anno propriamente brillante un Der eh? E se tutto va bene di media se riesci come sembra a cederli tutti e due la Roma con due cessioni ha un budget di mercato di 50 milioni. Ripeto derivanti da giocatori che non erano neanche tra i primissimi protagonisti, che non sono tra i primissimi protagonisti della Roma di quest'anno perché non è che hai ceduto un Zaniolo, non è che hai ceduto puttacaso un Pellegrini e via dicendo. Se riesci pure a vendere GECO per una quindicina di milioni anche quella signori lasciatemi dire è una signora cessione. Quindi tanto di cappello a fienga perché sta facendo quello che molto umilmente ho cercato di farvi notare parlando di calciomercati in questi giorni qui anche negli ultimi specialmente in relazione magari all'Inter, alla Fiorentina. Cioè che le cessioni devi anche andartele magari a cercare, serve proattività, serve un po' di fantasia che puoi applicare anche agli esuberi. Vi faccio un esempio. Si parla di De Sciglio alla Roma. Nel cattomercato della Juve che cosa vi disse? Che voi che mi avete detto le cessioni, il Villareale, il Saint-Etienne vi disse De Sciglio lo cederei ad una squadra come Lazio o come Roma. Dove è andato De Sciglio? Alla Roma. Alla Roma. Alla Roma. Mi ha un po' rotto le scatole personalmente questa narrazione sullo storytelling delle cessioni che è difficile fare e che non ti compra niente nessuno. Eh ma fanno tutti schifo. Stiamo parlando di squadre di serie A. In Europa ci sono tanti campionati. Ci sono anche squadre che i loro soldi li spendono, va bene? Ci sono anche squadre che i loro soldi li spendono e quindi questa narrazione qui a mio avviso è vera fino a lì e la Roma te lo dimostra e non sto criticando le scelte che adesso valuteremo. Sto proprio criticando il movimento. Parlando delle scelte se sono, se mi piace vista da un punto di vista romanista questo discorso su Cumbulla perché tu ti vai a prendere uno dei migliori prospetti difensivi presenti in Italia oggi e soprattutto è fomentante il discorso perché la Roma si sta tenendo aperta sia l'adozione di una difesa A4 sia quella di una difesa A3 e vi dico che una Roma che dovesse puntare stabilmente sul 3-4-3 a me personalmente gasa, a me personalmente gasa, a me personalmente gasa perché far entrare il buon Faulo Ponseca nella loggia, capito? Nella loggia della difesa A3 che io presiedo da anni, mi farebbe solo che piacere. Benvenuto Faulo, benvenuto Faulo, spero tu possa utilizzare la difesa A3 e farci godere. Ma a parte questo perché un 3-4-3 Fonsecchiano c'è solo di che spaccarselo in mano. Ma detto questo veniamo invece a delle operazioni un po' più così e colà. De Sciglio probabilmente rientrerà nell'affare Dzeko, probabilmente. Diciamo che è più una mossa che fa gli interessi magari della Juve che della Roma, anche se comunque De Sciglio può essere anche che si rilanci in una piazza come Roma che possa fare bene, chi lo sa. Diciamo che sarei andato su un altro esterno destro, possibilmente. Penso un Castagno, un Atteboer, uno dei due Atalantini destri, insomma, possibilmente. Però non si può avere tutto. E l'altro discorso che un po' mi perplime per certi versi è il cambio tra Dzeko e Milik. Nel senso che a me Dzeko piace molto, piace da tanto. Penso sia un attaccante simbolo, per certi versi, di un'epoca calcistica. È l'attaccante perfetto per i moduli a tre punte. Anzi, è l'attaccante, esagero, è l'attaccante simbolo, ok? Icona, immagine degli schemi a tre punte. Dzeko è il giocatore perfetto per uno schema a tre punte. È la perfetta torre, diciamo, che abbina senso del gol, freddezza, ma anche utilità per la squadra, gioco di sponda e via dicendo. E penso che la Juve, se prende Dzeko, fa un signore ingresso. Soprattutto non solo in relazione ai gol, che comunque se Dzeko è in forma ne fa anche comunque tanti, ma soprattutto per l'utilità che può avere per Dybala e Ronaldo, che è comunque superiore a quella che avrebbe avuto un Suarez, perché Suarez è un attaccante micidiale che piace moltissimo anche a me, ma non ha l'utilità che ha per la gente che gli gioca a fianco che può avere un Dzeko. Quindi un Dzeko alla Juve è anche un finale di carriera, permettetemi, meritato. Nel senso che Dzeko è un attaccante che io avrei visto bene anche a finire la carriera in un esiziale Real Madrid. Quindi Dzeko per me va a giocare nella Juve, che ad oggi è ancora la miglior squadra in Italia, per me è anche un finale meritato. E la Juve, ripeto, fa un signor colpo anche su un po' costosello, perché 15 milioni non sono pochi e anche il suo stipendio è abbastanza alto. Però vi ripeto, se le alternative erano i Cosi, erano i Keanu, erano i Giroud, ma tutta la vita Dzeko. Mandato via Suarez, hai preso, se arriva Dzeko, il miglior attaccante che c'era possibile sulla piazza e anche messo in paragone con Suarez può essere addirittura ancora più utile per la squadra. Detto questo, su Milik alla Roma sì e no. Nel senso che fossi romanista avrei preferito una permanenza di Dzeko nel possibile. C'è lo switch Dzeko-Milik visto da romanista... Cioè, per carità, Milik è uno anche lui che è utile alla squadra, che comunque fa il suo, che fa salire la squadra, che avrà anche voglia di rivalsa, per carità. Però sotto il profilo del bomberismo, dell'essere bomber, diciamo, non è che mi convince ancora pieno. Lo switch Milik-Dzeko, visto da romanista... Avrei preferito, diciamo, mantenere Dzeko. Avrei preferito mantenere Dzeko. E magari mettergli dietro un attaccante, un vice, un erede di Dzeko che poteva essere, lo dico controdomomia, perché spero ovviamente resti, ma un Vlaovic, per esempio. Milik ha dalla sua l'età, ha dalla sua magari il fatto di poter avere una voglia di rivalsa verso le altre piazze, magari anche verso la stessa Juve che non l'ha più voluto, verso anche il Napoli, magari che lo può caricare. È comunque un attaccante giovane, però mi deve convincere dal punto di vista della continuità, soprattutto perché non sempre è stato molto continuo a Napoli, della mentalità e dello score di gol. Ecco, questo mi aspetto. Se Milik diventa quello che a Napoli abbiamo visto solo a Sprazi, cioè un giocatore che unisce tutte queste cose, per carità ci può stare alla grande. Altrimenti comunque Dzeko è sempre Dzeko. Ripeto, se Dzeko va alla Juve, la Juve ha fatto comunque, in quelle che sono le sue attuali possibilità e situazioni, un innesto ottimo, un innesto ottimo, un innesto ottimo che è utile sia perché comunque è un nome pesante, un nome di esperienza, un nome forte che in Italia è ancora in cute, diciamo, timore, sia anche per tutto il beneficio che possono averne i vari Ronaldo, Kulusevski, Dybala, Douglas Costa o chi per loro, o chi per loro. Questo penso, ditemi cosa ne pensate voi, un caro saluto.